a questo punto la coramella con abrasivo 280 speriamo che si veda questa è la parte che è stata affilata sgrossata in questo caso uso la striscia abrasiva secco senza acqua se praticamente ha semplicemente la funzione di affilare e di togliere le righe più grosse anche in questo caso l'operazione può durare parecchi minuti e comunque fino a quando si inizia a vedere la lama abbastanza pulita da grassi grossolani è pronta dopo per essere passata su un abrasivo ancora più fine almeno vicino al filo e la successiva fase di lucidatura la fase di lucidatura può essere fatta con un trapano e una ruota in stoffa in feltro sulla quale è stata applicata una pasta lucidante in questo caso se si vede inizia a essere relativamente pulita ci sono ancora dei graffietti che si vedono quindi bisogna insistere ancora un po grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.